Ciao a tutti, fani incalliti di My Home My Destiny. Nel prossimo coinvolgente episodio di questa amatissima serie tv turca, vi porteremo in un turbine di emozioni, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Meiji e Enou metteranno alla prova la loro amicizia come mai prima d'ora, mentre Zeynep dovrà affrontare le conseguenze delle azioni di Meiji. E Kibrit, sarà al centro di segreti e sconvolgenti rivelazioni che potrebbero cambiare il corso della storia. Fuoco fuoco preparatevi, perché tutto sta per cambiare in modo irrevocabile. Non perdetevi il prossimo episodio e, se non avete ancora fatto click sul pulsante iscriviti al nostro canale, fatelo subito per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Dall'esterno, Meg D osserva attentamente il gruppo, intento a fare colazione nella dimora di Zeynep. La sua attenzione si posa particolarmente su Zeynep, seduta accanto a Baris. Quando si rende conto della sua presenza nel giardino, Zeynep si dirige verso la porta, offrendogli di unirsi a loro. Tuttavia, la rabbia sul volto di Meg D è innegabile. Con tono secco, declina l'invito, alludendo alla presenza di Baris. Anche se Zeynep prova ad ammorbidire l'atmosfera, Meg D è chiaro nei suoi intenti. Desidera solo portare via Gemile e Kibrit. Le due, percependo la tensione, si precipitano verso la porta, desiderose di apportare calma. Anche se Zeynep tenta di convincere Gemile a restare. Riconoscendo la situazione delicata, Baris suggerisce di posticipare il loro incontro. Tuttavia, Nermin e Sultan, desiderosi di mantenere la calma, insistono perché restino, esprimendo le loro scuse per l'atmosfera tesa. Dopo la partenza di Meg D, il gruppo riprende serenamente la colazione. In un momento di quiete, Baris confida a Zeynep che sente come se il loro divorzio abbia dato una nuova prospettiva alla loro storia, credendo fermamente che ci possa essere una riconciliazione tra i due. Nel mentre, in auto, Kibrit cerca di alleggerire l'atmosfera con Meg D, ma lui sembra distante e non risponde. Kibrit gli spiega che sia lei che Gemile avevano tentato in vano di contattarlo tutta la notte per dirgli che sarebbero state da Zeynep, ma il suo telefono risultava inaccessibile. Allo stesso tempo, Gemile invia un messaggio a Nu dicendogli che è in viaggio con Meg D verso casa. Riconoscendo l'importanza del momento, Nu si affretta a raggiungere casa Caraca, sperando di avere un confronto diretto con il suo amico. Alla residenza Caraca, Benal appare visibilmente tesa per gli eventi recenti legati a Meg D, mentre Mujgan riceve una comunicazione urgente da Buran. Lui desidera incontrarla al più presto, spingendo Mujgan a trovare rapidamente una giustificazione per uscire e raggiungerlo. Nella casa di Zeynep, è giunto il momento di discutere il delicato caso legale di Nermin. La donna, senza averne piena consapevolezza, ha firmato una procura che ha permesso a Ekrem di avere pieno controllo dei fondi aziendali. Sebbene la situazione appaia intricata, Baris mostra un cauto ottimismo per un esito favorevole in difesa di Nermin. Ancora turbata dall'intromissione di Meg D, Nermin si interroga su eventuali azioni legali contro di lui, sperando di sottrarre Zeynep dalla sua ombra oppressiva. Mentre serve il tè, Sakine si affretta a placare i toni, difendendo, per le sue radicate tradizioni, le azioni dominate e a tratti aggressive di Meg D. Nermin, desiderando aprire gli occhi di Zeynep sulle reali intenzioni dell'ex marito, rivela che Meg D era al corrente da tempo del doppio gioco di Ekrem, che aveva un amante e una figlia al di fuori del matrimonio. Il suo silenzio, sottolinea Nermin, ha impedito a lei e Zeynep di anticipare e prevenire le malefatte di Ekrem, privandole di un'eredità che avrebbero dovuto ricevere. Zeynep è visibilmente scossa dalla rivelazione. Aveva sempre creduto alle parole di Meg D sulla sincerità reciproca. Anche Sakine, con profondo dispiacere, assimila la notizia, rendendosi conto delle azioni del suo ex genero. Mujgan e Buran si trovano faccia a faccia, l'atmosfera è carica di tensione. L'impellente motivo per cui lui l'ha convocata, tuttavia, si rivela sorprendentemente banale. Desidera un consiglio sul nome da dare al nuovo bar che intende aprire nell'antica officina di Meg D. La reazione di Mujgan è immediata e feroce. Si sente beffata e tradita, accusando Buran di non aver mai avuto veri sentimenti per lei, sospettando che il suo unico intento fosse ferire Meg D. Le sue parole sono colme di dolore e rancore, benché avesse sempre anteposto i sentimenti per Buran a qualsiasi altro legame. Lui sembra essere costantemente ossessionato dal desiderio di vendetta contro Meg D, mettendo in secondo piano il loro amore. Mujgan, con voce decisa, pone Buran di fronte a una decisione cruciale. Se dovesse continuare nel suo progetto di sfida aperta a Meg D, aprindo il bar nell'officina, perderà per sempre il suo amore. Si mostra pronta a voltare pagina, accogliendo la proposta del primo uomo che si presenterà, mettendo fine definitivamente alla loro complicata relazione. Nella dimora di Zeynep, dopo aver affrontato la questione legale di Nermin, Baris ha l'opportunità di interagire più intimamente con Sakine. La donna è notevolmente colpita dalla sua cortesia e dalla sua assertività, che non sfocia in arroganza. Ciò la porta a rivedere la sua opinione su di lui, e inizia a pensare con piacere che sua figlia lavori sotto un tale leader rispettabile. Emine e Sultan, discutendo in cucina, condividono un sentimento simile riguardo a Baris, esprimendo la loro approvazione. Questa ondata di apprezzamenti fa sorridere Zeynep, che scherzosamente commenta su quanto sarebbe bello avere un uomo del genere al suo fianco. Dopo il ritorno a casa, Meg D e Gemile iniziano un intenso confronto. Gemile cerca di giustificarsi, spiegando che sia lei che nu avevano deciso di non rivelare nulla per il momento, aspettando l'occasione giusta. Tuttavia, Meg D, irremovibile, non sembra pronto ad ascoltare, e la tensione sale all'arrivo di Nu. Gemile si rifugia dalle altre donne della casa, che non riescono a resistere alla tentazione di ascoltare la conversazione tra i due uomini dalla finestra. Nu sostiene le parole di Gemile, ma Meg D, profondamente deluso, si sente tradito. Meg D sospetta che Nu stia cercando di dimenticare Emine, il suo precedente amore, attraverso il matrimonio con Gemile. Nu, profondamente ferito dalle accuse, colpisce Meg D dove fa più male, rivelando che sa del suo recente incontro con la loro collega Nasli. Nonostante Meg D proclami ancora il suo amore per Zeynep, la rivelazione lascia le donne in stato di shock, specialmente Kibrit e Benal. Quest'ultima vede svanire nuovamente le sue speranze con Meg D. La tensione tra Meg D e Nu raggiunge il culmine. Meg D, pieno di rabbia e delusione, interrompe ogni legame con Nu, sia nella loro amicizia che nella loro collaborazione professionale. Nu, tuttavia, non si fa mettere i piedi in testa e rinfaccia a Meg D di comportarsi come Buran, scaricando su di lui le colpe delle proprie scelte sbagliate. L'apice dell'alterco avviene quando Meg D lancia le chiavi del loro nuovo negozio a Nu, separandosi dal loro progetto comune e ribadendo il suo scetticismo sulle intenzioni di Nu verso Gemile. Gemile, devastata dalla virulenza dello scontro e dalla spirale discendente in cui sembra precipitare la sua famiglia, si rifugia in una stanza, ma è subito raggiunta da Mujgan, che tenta di consolarla. Mentre Gemile è ancora turbata dalla situazione, Mujgan la affronta, insinuando che sia lei la radice del problema tra Meg D e Nu. Tuttavia, Gemile respinge le accuse, sottolineando che la reazione di Meg D sarebbe stata diversa se avessero avuto l'opportunità di parlargli di persona. Gemile accusa Mujgan di aver intrecciato una rete di intrighi che ha messo alla prova l'unità della loro famiglia. Afferma che, nonostante le intenzioni di Mujgan di proteggere la famiglia, le sue azioni hanno solo causato divisioni. Gemile elenca i membri della famiglia che sono stati allontanati dalla casa a causa degli schemi di Mujgan. Prosegue sottolineando come Mujgan abbia avuto numerose occasioni per sposarsi, ma abbia sempre scelto di rimanere nella casa familiare, non per amore della famiglia, ma per paura di perdere la casa stessa. Questa paura, sostiene Gemile, ha avuto ripercussioni non solo sulla vita di Mujgan, ma su tutti i membri della famiglia, portandoli alla situazione attuale. Gemile esprime il suo desiderio di sposarsi e di vivere la propria vita. Ribadisce che sposarsi non significa abbandonare la famiglia, ma solo cambiare casa. Mentre la tensione cresce, Magdi entra improvvisamente nella stanza, avendo ascoltato il confronto tra le sorelle. Interviene dichiarando che Gemile è libera di fare le proprie scelte, anche se significa sposare un uomo che, secondo lui, non la ama veramente. Con queste parole, Magdi si estranea da qualsiasi decisione futura che le sorelle potrebbero prendere. Poco dopo, Magdi cerca Kibrit, desiderando ottenere informazioni sul rapporto tra Zeynep e Baris. Nonostante rassicuri Kibrit sulla sua preoccupazione per il benessere di Zeynep, il suo interrogatorio sulla frequentazione di Zeynep con Baris rivela la sua gelosia latente. Ma Kibrit, ancora turbata da quanto ha appreso riguardo alla notte trascorsa da Magdi con Nasli, non ha intenzione di lasciarsi manipolare. Con tono sfidante, lo mette di fronte alle proprie responsabilità, domandandogli apertamente della sua notte con Nasli. L'imbarazzo di Magdi è palpabile, e lui, preso alla sprovvista, non riesce a replicare. Kibrit, sdegnata, se ne va senza dare ulteriori spiegazioni. Una volta lontana da Magdi, Kibrit sente l'urgenza di condividere quanto accaduto con Zeynep, la madre. Le racconta non solo dell'incontro con Magdi, ma anche della sua notte con Nasli. Zeynep, cercando di mantenere la calma, risponde in modo distante e freddo. Esortando Kibrit a stare lontana dai problemi degli adulti e a non lasciarsi coinvolgere in discussioni che non la riguardano direttamente. E mentre Zeynep cerca di proteggere la figlia dai dettagli scomodi della sua vita personale, è chiaro che l'equilibrio familiare è sempre più precario. La fiamma non sembra essersi ancora spenta completamente. La rivalità tra Magdi e Baris cresce, mentre Zeynep si ritrova al centro di questo complicato triangolo amoroso. Ma cosa riserva il destino per loro? Non perderti il prossimo episodio e scopri come si intrecciano le vite di questi affascinanti personaggi in My Home My Destiny. Grazie per averci seguito, e non dimenticare di iscriverti, e cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Alla prossima!